Oddio! 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 Ragazzi, è venuto giù il ponte, non ci credo. L'ho visto praticamente con la coda, con gli specchietti quello che era successo, perché in quel momento lì stava veramente diluviando, tuoni e fulmini. Io pensavo che fosse trovato un palazzo. Ho sentito un rumore sordo e ho visto la strada che andava giù e io andavo giù con lei. E mi sento miracolato, sì, perché sembrava di stare in un film. Era 10 metri dal ponte, un certo ponte è crollato giù come se fosse farina con tutti i mezzi sopra. Come se fosse farina. Ho un boatto e ho volato via. Ed è volato giù lei. Controlo il mondo. Ed è vero... Grazie a tutti